Un cambiamento anche della flora batterica. La presenza dei batteri causa la parodontite? Non sempre. Ci sono pazienti che ce li hanno con i batteri oppure non è in stadio attivo la malattia. Dottore, non ce l'abbiamo o possiamo chiarire? Ce l'avete in farmacia. Ah, posso andare a prendere? Sì, in farmacia. Non c'è bisogno di nessuno? In Italia la prendete. Ah, quindi adesso non c'è bisogno di nessuno? No, no, no. Ah, per quanto tempo ti ha bisogno di una settimana? Ve la farà una centro assistenza. Questo è un esempio di quando svitiamo la protesi, che c'erano grossi problemi. Questa è la gengiva che è completamente rossa, sanguinante, vicino agli impianti. Si usa uno strumento che si monta sullo strumento per la pulizia dei denti, che vibra, però c'è la punta coperta in pic, tipo il pectone, plastica. Tipo plastica, cioè l'importante è che non ci sia il metallo a contatto né con la protesi né con i multiunit, altrimenti li danneggia o c'è il rischio che li graffia e poi si attacca ancora più tartaro. Non tutti gli igienisti lo sanno questo, anzi moltissimi non sanno neanche che il sondaggio va fatto con questo strumento e qua poi fa tac. Sugli impianti bisogna usare questo strumento, ed è uno strumento calibrato e devi tirare lateralmente, come qua vedi in queste frecce. Metti la sonda e allarghi, non devi spingere dentro. Con i denti devi spingere dentro, con gli impianti no, devi solo allargare. E' un po' diversa, ci sono quattro punti da valutare per ogni abatment, che anche con la protesi sopra noi riusciamo a valutare. Le metti un po' di spiega e valuti come non devi sbittare la protesi, qua sbittata perché era un paziente che aveva grossi problemi. Queste erano le gengive tutte rosse infiammate attorno all'impianto, vedi? Tutte edematose, questo è un paziente che non ha mai pulito. E c'era anche sanguinamento, vedi il sanguinamento, poi come si crea il rigagnolo qua, di fianco. E poi si lucidano i multiunit, si mette questo strumentino che gira con un gel di clorexidina, che sta dentro alla coppetta, si vede qua. Questo c'è il gel che lucida tutta la parte meccanica dove poi si riavita la protesi. La protesi, in caso di grossi problemi, si svita e si va a rimuovere il calcare che c'è sotto con questo spruzzo di bicarbonato. Alla fine viene pulita, pulita. Potrebbe essere fatto solo da un professionista, non noi. Sì, non l'ho fatto, un marito che ti mette, no, no, no. Va fatto dal dentista o dall'igienista che la svita e la pulisce. Ah, per l'epoca, prima aveva detto spruzzare il bicarbonato aggetto. No, è un apparecchietto questo proprio che ha l'igienista. Ok, quindi noi no. Poi la protesi la vai a riavitare sopra agli impianti dentali. Questo è il tipo di igiene che va fatta.